Ciò che non è Firenze, di Vanni Santoni. Quella sera mi faccio lasciare al ponte alla Carraia e da lì, dovendo raggiungere la casa che ho in quel periodo, che sta in via dei Gergofili, non mi butto per la strada più naturale, che è quella che corrisponde a Lungarno, ma cammino per via della Vigna Nuova, supero Piazza Strozzi e da lì giù per via degli Strozzi prima e via del corso poi, finché non svolto addirittura in direzione opposta a quella in cui avrei dovuto andare e mi infilo in via dello studio, trovandola vuota nella notte. Percorro piano la strada, finché a metà, una decina di metri circa da via dell'Oche, la cupola mi si mostra nello sbrego tra i palazzi e per l'ennesima volta di fronte a me, attonito, esplode l'enigma del Duomo. Il suo occhio mostruoso che si volge di lato, colmo di sdegno per chi non sa di metafisica. Arrivato all'altezza della bottega dell'opera, guardo emergere la cupola intera, la seguo entrare nella dimensione dell'inconcepibile, diventa boato, sirene enorme di nave. Mi difendo facendomi distrarre dalle molte finestre della torre dei Pierozzi e quando poi l'ho superata e giungo nella parte di via dello studio, che aveva nome un tempo via del transito, in quella parte dove la strada discende un poco, anche il mio sguardo discende, si abbassa fino all'astricato e torno tra gli uomini. Giro attorno a un quarto di Duomo, mi metto con i piedi nel cerchio di marmo sul retro della piazza, che segna il punto dove cadde la sfera della lanterna, e poi mi ributto giù, per la lunga diagonale di via dello ruolo, suoni di bottiglie spaccate alla distanza, americane a gruppi che strillano e ciantellano, bottiglioni di limonata truccata sotto braccio. Dopodiché, come a volermi perdere di nuovo, svolto nella buia via dei Pepi. Le finestre inginocchiate e quelle incorniciate dicono che sto camminando accanto a un palazzo, ma il palazzo dei Pepi è un quarzo, il tesoro è tutto dentro, e stavolta ha le porte chiuse e non posso vederlo, e allora avanzo nell'odore spesso di urina, passo due, tre, quattro saracinesche abbassate, ancora qualche finestra, finché non raggiungo il canto alle mosche. L'uscita del vicolo. In alto sullo spigolo vedo un grappolo di riflettori, puntano qualcosa che ancora non si scorge. Faccio un passo, poi due, sbircio qualcosa di bianco. Mi sorprendo di scorgere la punta di un timpano di Santa Croce, che si conficca nel cielo nero. Abbasso gli occhi come a riparare lo sguardo nella pace di un lembo di piazza, e intanto penso che davvero Firenze è infinita, e si potrebbe andare avanti e girarla per giorni, con la certezza che di Santa Croce ce ne sono almeno cento, e di punti da cui sbirciarla mille. E chissà quante via De Pepi è ancora da scoprire, una babele infinita di marmo e gugli e torri dalla testa mozza. Solo allora, dall'orologio a muro che brilla in fondo a un ristorante chiuso, vedo quanto è tardi, e allora mi forzo a identificare la direzione di casa, e da Santa Croce mi avvio in via Torta, lungo la curva che fu dell'anfiteatro. Ignoro un ragazzo steso a terra, perché il suo compare pare tranquillo, porto l'occhio altrove, e subito da un'alta finestra mi distrae il rumore di una festa, il fumo che esce a sbuffi dalla finestra illuminata, una ragazza che vi si affaccia, il bicchiere in mano, mentre già passo altrove. In Borgo dei Greci trovo un pedale sul bordo della strada, e dopo, in via del corno, l'altro. E allora mi chiedo cos'è successo, ma il pensiero già sfuma mentre conto i mozziconi fissati sulle righe del marciapiede, che mi accompagna fino al piazzale degli Uffizi. Visione di luce grigia di cui ricordo i bei tempi, tempi non militarizzati, i tempi del mio arrivo in città, in cui gli Uffizi erano un luogo da fiasco di vino e chitarra. Prima che ci casciassero, penso, mentre in fondo localizzo due facce note, li saluto, non sono così note da fermarci a parlare a quest'ora di notte. E chissà, mi dico, forse anche loro stavano ripensando a com'era una volta questa piazza, e riprendo a camminare. Di nuovo la prendo larga. Prima di arrivare in quella stanza, che mi sono riaffittato, che era la stanza dove abitava la mia prima fidanzata fiorentina quando ci si conobbe, dove abitammo i primi tempi, e me la sono ripresa, non perché, come di certo persa lei, sono un nostalgico e forse uno psicopatico, ma perché quella stanza rappresenta per me un ritorno a ciò che è stato superato dal tempo, a cui io stesso ho detto addio, e dunque è pacifico, acquisito, mio. Passo da piazza del porcellino, mi metto in piedi sull'altro disco, quello di marmo bianco e verde, come Firenze. Quanti ve ne saranno di questi cerchi? Mille? Un milione? Un miliardo? Che segna il punto dove gli insolventi, appesi per piedi e mani, venivano lasciati cadere, a spaccargli il bacino. Ho un brivido, ne esco, ci risalgo a zoppino, unisco i piedi, avessi un sassetto e qualche disco in più, giocherei al gioco del mondo, penso. Poi riparto, mi indirizzo finalmente verso casa. Il prossimo libro, penso la sera successiva, la mente al giro della notte precedente, potrei scriverlo su Firenze, ma è difficile. Sotto la guaina orribile del turismo e dell'oleografia c'è una vertigine di significato. Ti ritrovi per forza a giocare sul terreno di Dante, di Boccaccio, terreno che fa tremare le gambe, soprattutto a chi gioca in casa. Guarda che roba, penso scorrendo con un movimento dalla testa tutti i lungarni. Scrivi dei lungarni senza essere retorico, su, parla di Ponte Vecchio, di Piazza della Signoria, dai, vediamo che bel risultato. Racconta il Battistero, la cupola o Samminiato al monte. E neanche puoi dire, bene, saremo analitici, prenderemo in considerazione tutto. Ottima idea per ritrovarsi dopo due o tre anni di lavoro con un testo sulla cosa più ovvia del mondo, sul fatto che Firenze è bella. Cammino e pondero. Entro in via di San Nicolò, oltrepasso la porta di Samminiato, mi avvio in salita. Ricordo bene la prima volta che realizzai l'esistenza di via Monte alle Croci. Ragazzino, risalivo il quartiere di San Nicolò per andare a trovare una che mi piaceva, che abitava alle rampe, e mi colpì la porta di Samminiato. Così, diversa dalle altre, più bassa e ancora padrona di un pezzetto di mura. Oltre di essa vidi poi la lunga erta e stranito, pensai che quella non era più Firenze. Abituato com'ero a un'idea della città come luogo pianeggiante, piatto, livellato sull'Arno e sui viali. Io che abitavo in via Masaccio, onesta arteria del traffico cittadino. Oggi, tra le fronde e le case che scorgo oltre la porta, realizzo quanto il panorama, sebbene inconsueto, sia invece fiorentino nel più stretto e aderente dei modi. Oltre i bastioni, via del Monte alle Croci, va su, sale, ornata in fondo di scuri lecci e ancor più scuri cipressi. Faccio due passi, lo sguardo all'alto orizzonte e mi coglie una visione. Non osavo sospettarla così presto e invece eccone un lembo tra le più alte foglie. San miniato, un riflesso d'oro e di marmo, sogno di un Cristo pantocratore, un faro o un'idea che mi chiama dalla sua rocca. Più avanzo e più mi è impossibile sfuggirle. Non importa quanto cerchi di smarcarmi. A sinistra, le scale di San Salvatore al Monte propongono addirittura una via Crucis. Continuo la salita. Alla mia destra, un muro coperto di muschio profumato. Alla mia sinistra, una villa abbandonata, decori cupi di edera e alloro. Mi soffermo a un tabernacolo per tirare il fiato. L'immagine ricorda quando Giovanni Visdomini incontrò l'assassino di suo fratello e lo perdonò, diventando così San Giovanni Gualberto. Io stesso ora, risalendo verso San Miniato, mi trovo il cuore pacificato e pronto alla misericordia. Al primo vero tornante scorgo un indizio di piazzale Michelangelo. Il rumore delle auto, i retri degli stand, coperti di teloni di plastica verde. E con l'idea del piazzale arriva quella del panorama. Mi volto e in effetti di fronte a me si stenderebbe Firenze. Ma le fronde di un leccio nascondono quasi tutto alla vista. Anche il Duomo e Palazzo Vecchio. Solo Santa Maria Novella, a sinistra, si mostra, solida, bigia e nella foschia dietro di essa si scorgono le forme apocalittiche del nuovo Palazzo di Giustizia. Una torre di Babele, una scenografia terrifica da trittico di Bosch. Mi do le forze per l'ultima tratta di salita. Noto alla mia destra il sistema di scale che porta la Basilica, ma me le tengo per dopo. Giro a sinistra, cammino sull'asfalto e ogni passo ho qualche turista in più intorno e poi orribili bancarelle, furgoni, autobus, finché giungo al piazzale e mi avvio verso San Miniato al Monte. Lì capisco che per certi versi avevo ragione, ai tempi in cui non ci capivo niente, quando dicevo che quella non era Firenze. Riflessa nei marmi ogni preoccupazione è sopita, ogni furia placata, ogni ambizione appare per nulla urgente. Apro un basso cancelletto e in uno sbuffo di gelsomino entro nel cimitero delle porte sante. Cammino tra le lanterne di bronzo e i sasso vivi, tra gli ovali con le foto fumè e le lapidi coperte di licheni, tra un fumineo malore e un tragico investimento, tra i crudi morbi e gli avversi destini, tra selve di croci in brevi serragli, una di esse in mezzo la guarda un busto d'uomo col cappello. Onesti commercianti, mogli ottime, figli integerrimi, coscienze dritte, compendi di bontà, anime delicate, un pugno di balle messe su marmo. E chi oserebbe contestarle qui sotto gli occhi della basilica? Non chiedo un mausoleo in Santa Croce, ma almeno sbattetemi qui e spendete due bugie quando verrò per rimanere.